Oggi su Minecraft dovremo attraversare tre ponti veramente lunghissimi Il primo sarà di terra, abbastanza semplice Il secondo di diamante, pieno zeppo di ricchezze Ma anche di tanti, tanti pericoli Mentre il terzo ed ultimo sarà quello di hacker E vi garantisco che sarà decisamente il più pericoloso Mamma mia che brutto che sto ponte Faire a me non sembra minimamente sicuro Però, sai, siamo abbastanza obbligati a prenderlo se vogliamo andare avanti Che facciamo? Eh sì, Stef, però fa un po' schifo, c'è tutto sporco Sì, ma sicuramente crolla pure, Faire, ma ti sembra sicuro a te sto ponte? No, per niente, però c'è una persona lì, guarda Quello lì è il primo a schiattare, te lo dico io No, no, come? Chi sarà mai, Faire, scusa, che ci fanno un ponte di terra lì da solo? Che ne so, sembra un lavoratore così guardandolo Allora, prendiamo un attimino le cose da qui Oh no Ma dai, l'armatura di terra no, però che tristezza Non lo usavamo da un sacco di tempo ed ero felice Prendiamo tutto quanto così E ci mettiamo sta schife È tutto brutto oggi, Faire, te lo dico io È tutto brutto Tutto brutto Il ponte è brutto, l'armatura è brutta, le armi sono brutte C'è la spada in pietra, chi la usa ormai? Appunto Nel 2021, scusami Andiamo? Io vado lì e lo pesto Sì, lo dico subito No, no, pestarlo no, prova a parlarci Però non lo so, mi fa strano il fatto che Comunque ci siamo dovuti armare, Stef Buongiorno Salve Tutto bene? Sta per scatare? Sta lavorando nel ponte di pietra? Allora, vediamoci Lascialo in pace Allora, ci dà dei soldi Ok In cambio di varie cose Tipo bottiglie di vino Un microonde Una console Ci dà E con 17 da 5 Che non so quanto faccia Ci dà un bottone dorato Che credo ci serva ad andare avanti Qua, Stef, guarda Dov'è? Vedi, lo devi mettere qua il bottone Ok, e penso che si apra questa porta Però dobbiamo vendergli varie cose Quindi lui è tipo lo spazzino del ponte E non lavora neanche perché sta chiedendo a noi di farlo Esatto, credo che facendo noi al posto del suo lavoro Lui ci paga E tramite quei soldi che otteniamo Possiamo appunto prendere il bottone per andare avanti Esatto, Stef, proprio così Beh, è terribile sto ponte Ci fanno pure lavorare Allora, fammi vedere un pochino Questo ce l'ho Quindi posso prendere 5 così Poi posso prendere anche questi 5 Anche questi altri 5 E anche questi altri E mi sa che ho pure la lampada Eccola qui, infatti Ok, io sono a 5 banconote da 5 guadagnate Allora, io ho 4, mi pare, sì 4 banconote Anzi, no, ho preso un sacco di roba in più Non l'avevo vista 5 Allora, prendiamo anche questo Questo lo posso vendere Il pesce lo prendiamo Non so se servirà Stef, io ho già 7 banconote da 5 Ok Allora, lì a fianco credo che anche questo si possa prendere Aspetta, io sinceramente prendo tutto Sì, sì, si, raccogli tutto Allora, vediamo Ok, infatti lo vende Perfetto Anche questo osso che ho preso Il pesce? Sì, il pesce vale Io non li avevo toccati perché mi sembravano un po' strani Però, vabbè, gli va bene tutto Quanti ne hai? 7 Passa? Tu ne hai? Ci dovrebbe bastare Ne ho 11 Quindi dovremmo andare a 18 Esatto Ok, quindi possiamo comprare il bottone dorato Vai, posiziona Piazziamo questo bottone Olè Ma Io ti ho detto che stava crollando Guarda quanto alto Mamma mia Se cadi da qui, Fede, non sopravvivi manco per sbaglio Eh, ci credo, Stef Puoi anche sopravvivere cadendo da questa altezza Ah, non hai capito Dobbiamo pure riparare il ponte, Fede Oggi è una giornata Ma scusa Ma quando mai c'è un ponte dove devi lavorare e ripararlo per passare? Io non ho mai visto un ponte del genere Evidentemente su Minecraft esistono, Stef Mamma mia Ma dimmi te Allora, sistemiamo anche qui Occhio a non cadere Mi raccomando Lo so, tranquillo Almeno questo lo so fare, dai Non ci vuole molto Bisogna solo piazzare della terra Non so perché l'avevo già cadendo No, no, tranquillo Mamma mia È troppo alto però Che paura Ok, perfetto Perfetto Finito E adesso? Il ponte è stato riparato con successo Ora si può proseguire Ah, si è portata la porta Oh Oh Perché mi attacchi? Per Che vuoi? Tu ho pure riparato il ponte Dovresti essere grato No, forse perché adesso si può andare da loro E loro non sono felici di questa cosa Esatto Oh Oh Eh, ma non c'è bisogno di essere così aggressivi Steph Se ne puoi parlare delle cose, dico io Ma l'ho fatto malissimo Per sbaglio ho dato un ceffone anche all'altro Perché sono tornato fin qui e l'ho colpito per sbaglio Poverino No, poverino Però non si è lamentato Non male, una brava persona Io vi mangio una mela d'oro Anche io Allora Ma ce ne sono altri tre, Steph Allora, calmiamoci un attimo Vabbè, ti ho iniziato subito Non me ne frega più nulla Tanto me ho capito Anzi, sono quattro Ho capito che siete dei maledetti infami E noi vi distruggiamo Ma non c'era bisogno, secondo me, di essere così aggressivi Vabbè Accidenti Allora, cioè, praticamente abbiamo raccolto spazzature e lavorato Sì Ho riparato il ponte e faccio pure una rissa E sono pure pesato, dico io Mannaggia, o peggio di così Hai finito? No, non è finito Peggio di così Ho detto, cavolo, finalmente l'uscita, invece no Allora, Ferre, per la scienza Puoi controllare questo liquido? Cosa succede? Steph, sicuramente schiatti Ti sembra Piavelena Esatto Ti sembra un liquido sicuro Che male Per poterti buttare Che male, accidenti Non cadere per nessun motivo, eh Eh, ma va Ferre, dobbiamo essere sicuri che fosse così Ok Opla Da questa, da questa, da questa Andiamo qui, andiamo qui Quasi finito Spero di non cadere proprio all'ultimo Perfetto Ok Dai, Steph Esco da qui Ce la faccio lo stesso Maledetto schifoso Dai Avevo fatto tutto il parkour Comunque abbiamo finito, Steph Però Vedo un altro ponte C'è un altro ponte Ma dico io Guarda, guarda cosa abbiamo appena superato Comunque Sì, ma Fede Guarda da qui Non vorrei dire Ma abbiamo fatto un salto di qualità incredibile Dalla terra Ponte di diamante Mi aspetto che mi diano ricchezza Eh, eh Ci hanno dato terra Quindi mi daranno diamanti Allora Steph Quanti tesori ci sono No, lo preapri qua Oh, finalmente Ora sì che si ragiona Ci sono anche due tipi di bistecche Hai visto? Perché ovviamente Essendo di diamante Le cose anche più scelta Perfetto Perché sono pregiate Le frecce di diamante Depositiamo tutto questo schifo Che tanto non me ne faccio nulla Mele d'oro di diamante Via, 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 via Che bello E ci mettiamo questa Poi mettiamo l'arco con le frecce Mele di diamante qua Belle pronte Il cibo qui così E direi che ho tutto quello che ci può servire Andiamo Chi dobbiamo combattere? Buongiorno Spero che non si debba Hai 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 mangiato le bistecche Sono caduti dei diamanti da terra Allora, ho mangiato una bistecca E sono piovuti i diamanti Mi ha dato fuoco Però sono piovuti i diamanti È un'ottima bistecca Allora, erano queste Ok Quelle di diamante liquido Proviamo poi le altre Ecco, ora la posso provare Anche questa ha effetti strani? No No, quindi è solo l'altro Allora, sto notando che ci sono monette Gioielli, corone C'è veramente di tutto per terra Guarda questa gente Quanto è ricca Però qua Chiere, 64 banconote E lei? Dobbiamo Steph Sì, 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 sì Vabbè, però sai Quando raccogli delle corone E dei soldi È tutto più piacevole Rispetto alla spazzatura Direi Quindi sinceramente questa volta Non mi sento di lamentarmi, no? No, neanche io Sto prendendo tutto Poi decido anche se tenermi qualcosa Se avanza Stai com'è Mi piace questo nuovo lavoro Che devi raccattare le cose così Bello, bello, bello Sì, sì Vediamo qui invece Allora, buongiorno Ferri, quanti soldi hai? Allora, al momento ne ho 30 Aspetta che posso ancora vendere No, Ferri, vabbè Sinceramente Sono a 36 Ho fatto tutto da solo Ok Nel 64 Allora me li tengo E mi tengo a più 4 di questi anelli Aiuto Beh, abbiamo un problema Perché? Vabbè, ma noi con arco e frecce E voi a pistola Mi sembra Mi sembra un po' eccessivo Hai preso le frecce di diamante? Sì, le sto usando Una dato Ok, due Due Aspetta che li colpiamo da qui Allora No, io mi mangio La mela Di diamante Se fai così Li freghi Perché non riescono a spararti Ah, stanno proteggendo un vault Steph Un cavo Come lo vogliamo chiamare? Quello è pieno di ricchezze Ecco perché Siamo già dentro il cavo, Ferri Eh, ma lì c'è una porta blindata No, quelle per uscire Secondo me là il cavo Ah, ok Piccone Piccone Allora, questo lo mettiamo qui Perfetto E iniziamo a prendere tutto quanto Allora Tata 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 Quanti soldi Bello questo ponte di diamante Sì, sì, sì Molto interessante Mi è piaciuto decisamente Molto di più di quello di terra Proprio Proprio bello Sai Quelle zone turistiche È vero? Con un bel panorama In cui vi tutto Sì, sì, sì Proprio bello Proprio, proprio bello Mamma mia Che bello Ok, perfetto Facciamo scendere questo Sono piena di soldi E di lingotti In questo momento Facciamo così Ok Ci prendiamo anche qualche monetina Che queste sono da collezione Ve lo dico io Qualche blocco d'oro Non fa mai male No, loro lasciano perdere Steph Con tutto questo diamante Ho deciso io cosa prendere Ok Ci siamo? Direi di sì Fere, sinceramente Steph è diventato più avido di me Allora Lui mi accontento almeno dei diamanti Lui raccatta tutto È tutto quello che vedo Possiamo spiare Nooo Non era gratis Nooo È certo che non è gratis Steph Allora Andiamo Ok No, però sono veramente tanti Esatto Ok A distanza così Con l'arco Ai Come Robin Hood Uno è andato Fere Ti ho preso in pieno Lo so, vai Ok, steso un altro Ok, colpito Colpito Devo mangiare un secondo Sto cercando copertura In queste colonne Preso Preso Questo è che ce n'è uno Qui al lato Alla destra Esatto Ecco, lo vedi Lo vedi Andiamo a spada Vai Mamma mia Non schiattava più Ok E qua chiudiamo Così non ci sono le prove Che abbiamo rubato tutto Andiamo avanti Buongiorno Cos'è successo di preciso Steph Credo che il buttafuori Ti abbia colpito Mi ha sciolto però Sì Quindi Buongiorno Togliti Dici Non riesco a colpirlo La vedi la freccia? Sì Che hanno fatto una barriera invisibile Sti matti La vedi? Allora Come facciamo? Si sono allontanati Ok Ok Sono molto strani questi qua Sono caduto Ma? Bisogna andare lì? Non lo so Buongiorno Ma chi è questo qua? Allora Ci dà una minigun Per 15 soldi Io ce li ho 15 soldi Sicuramente Ah qui io? Quindi grazie per la minigun Grazie per la minigun I proiettili Scusi signore Allora Credo che ci siano già dentro la minigun E qua ci sono anche delle armi strane Sì Le vedi? Ma io Non so cosa succede A me va bene la minigun Qua ci sono delle bistecche Con le munizioni Dove sono? Ah Non le avevo viste Prendiamo tutto Vai Quindi è questa la soluzione? Penso di sì Siamo un po' violenti oggi eh Allora Eccoli eccoli maledetti Vabbè li abbiamo sciolti Dai Lorde dei diamanti No aspetta dov'è il Lorde dei diamanti? Scusami Vediamo questa porta Aiuto No 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 Steph? Eh? Ho preso del danno attraverso la porta Bene sta sparando diamanti Appunto Diamanti esplosivi Vai avanza Ai mi ha preso in faccia Che male Però siamo fortissimi Mi tragli però I diamanti Ma scusa Ha un lanciadiamanti Lo voglio Lo voglio Ti prego Devo ricaricare Mi sta distruggendo Scappo Ci penso io Però sto finendo di ricaricare La ricarica è lunghissima Ok lo stesso Ok Io sto ancora ricaricando Buonanotte Minigun Anche io infatti l'ho interrotta Abbiamo finito però Non me ne ero neanche accorta Uff No perché non ci ha lasciato il lanciadiamanti Steph era bellissimo Niente lanciadiamanti per noi Mi dispiace Oh no Uff Hai visto che c'è di fronte Ah Terra diamante hacker Quindi ha anche un senso Quello che stiamo facendo Ok Ok Va bene Va bene L'armatura hacker è una delle mie preferite Quindi sono super felice Ci sono dei blocchi Nel dubbio li prendo E anche Del liquido strano Prendiamolo Facciamo così Facciamo così Questa spada Non fa danno Ma perché dovremmo prenderla Come non fa danno Fa 4 Ma Fa schifo Ma magari ha degli effetti No non mi sembra Io mi tengo anche quella in diamante va Le tengo entrambe E anche la minigun Poco ma sicuro Buttiamo l'armatura Buttiamo anche sti soldi Mettiamo l'armatura Vediamo il cibo hacker Sto bene Sto bene Nessuno ha fatto troppo strano Sì sì Sono pronta a hackerare tutto Andiamo Metto anche l'armatura Ci sono Via Andiamo E qua si deve premere Sto bottone Che è? Eh Ah Premi Sicuro Rosso Rosso Non sto capendo il senso Ti dico la verità Allora Devo capire come si Prova a passare sopra Questo blocco Il terzo Ok Tu rendi rosso Io rendo verde Ok Ok ora cosa manca? Tutta Devi fare tutta una striscia Incredibile La striscia questa Fino a dove? Eh aspetta Fino al Fino al penultimo Qua 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 Ah no chi sei Ah no chi sei? Non spari Che paura Sto spaventata Da festeggiamento Ah no chi sei in due secondi Aiuto Accesso negato Solo autorizzati E menu opzioni dispositivo Cancella account utente Disattiva antivirus dispositivo Disattiva modalità guardiano Resetta il dispositivo Attiva teletrasporto Attiva teletrasporto Qual è la soluzione? Accesso negato Solo autorizzati Meno opzioni dispositivo Disattiva modalità guardiano Accesso negato Solo autorizzati Antivirus dispositivo Accesso negato Solo autorizzati Cancella account utente Accesso negato Solo autorizzati Resetta Resetta dispositivo Accesso al reset Non protetto Resetta autorizzato Menu operatorio disponibile Menu opzioni dispositivo Attiva teletrasporto Ci abbiamo fatta? Aiuto Buongiorno Accesso negato La stanza successiva Recidi il filo rosso Recidi il filo verde Recidi il filo blu Recidi il filo viola E viola Accesso negato Blu Dispositivo disattivato Sistemi sicurezza della stanza disattivati Si è aperta questa porta Bellissimo Bellissimo Quello che stiamo facendo Buongiorno Moralità guardiano Accesso non autorizzato La stanza successiva Per abilitare l'accesso Digitare ID e password ID Hacker-man Password Hacker-man Password erata Accesso negato Dov'è? Ah no è molto più lunga Password Mannaggia Fai password Password Login effettuato Attenzione password vulnerabile Attività Autorizza accesso E apri le porte Apertura porte Ok funzionato Vai Mannaggia ragazzi Difficilissimo hackerare Tu Bot guardiano Punti interrogativi Alt F4 Alt F4 Attenzione Perché hai premuto Alt F4 Non si preme mai Alt F4 Anche tu Ok Nessuno mi può fermare Con una minigall Ho sciolto Ok Scusa Non c'era bisogno Arrabbiarti Può rivederci Ok Stef cos'è questo? Io non premerei Il rosso Ok Ok Il verde è tutto ok Il rosso no Il rosso no Come faccio sto salto? Eh È un po' il problema Ok 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 Stef Sì Un labirinto mortale No Ci sono diverse strade Un labirinto hacker Fere Esatto Un labirinto mortale Altro che Stef non troveremo mai La strada giusta Vero? Sì Secondo me la mia Era pure giusta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta L'ho finito Sono stata bravissima Non sono schiattata Né che una volta È impossibile Ho ce l'ho fatta Fere Ha hackerato No no Non ha hackerato È hackerato Perfetto È solo che dopo è peggio Quindi puoi anche restare lì Dopo è peggio Non c'è problema Sì molto peggio Si capisce nulla Cosa c'è peggio di un labirinto parkour Sì vedrai Vedrai appena arrivi Stef Allora ti vedo abbastanza vicino Quindi secondo me non ti manca troppo Eh questo salto Prima mi ha fatto schiattare No non è vero Non era questo Era questo Devi stare attento a quegli obliqui Secondo me sono i peggiori Guarda mi mancava un salto Quando ero morto Che è sta roba Come facciamo E ci sono dei bottoni Ah No non dirmi che scompare È questo Stef c'è qualcosa che non va Questo salto è troppo lungo Allora in base a quello che premiamo Compaiono Vedi Sì Quindi devi stare Ah forse per farci vedere dove sono E sono anche invisibili No io sinceramente non penso Allora Stef Secondo me è molto peggio Io ti devo premere i bottoni mentre salti Tu sei impazzita È così Qual era quello che ti faceva compagni Quello di destra Questo Sì Sei pronto Salto Piano però Non devi andare avanti Perché ti devo far ricompare Non è semplice qui eh Ok è sempre dritto Pronta di nuovo Sì Vai Ok pronta Sì Vai Era oblico l'altro ti ricordi Sì Pronta Sì Vai Ok pronta Adesso Vai Pronta Sì Vai No Bella fine Bella fine Fregatene Siamo degli hacker Stef Puoi citare Ma io aspetta sto morendo però Mannaggia a te Abbiamo finito Ok Basta No era un incubo Stef Abbiamo fatto la maggior parte Siamo stati bravi Ma perché non hai premuto Siamo degli L'ho premuto In ritardo Eh no Stef Lo sai che queste cose Non è che sono precisissime Abbiamo finito Sì Penso di sì Siamo tornati all'inizio E di certo io non ho voglia Di ripercorrere questi ponti Assolutamente no Direi che ci possiamo fermare così Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Sotto come sempre come altri video Iscrivetevi al canale Campanile E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao